Ieri pomeriggio per oltre tre ore e mezza si è tenuta la prima commissione consigliare sul demansionamento scolastico. Presente l'assessore alla pubblica istruzione, vicesindaco Daniele Tiozzo Brasiola, i consiglieri di minoranza e una buona parte dei consiglieri di maggioranza, alcuni giunti in ritardo ma doverosamente presenti vista l'importanza del tema trattato in commissione. Molto il pubblico presente, formato da insegnanti, dirigenti scolastici e genitori, un pubblico che ha applaudito a scena aperta al termine di ogni intervento che si muovesse contro la decisione presa dal governo cittadino. Il richiedente della convocazione, il consigliere Rossi di Energia Civica, ha lamentato che la decisione presa dal Comune di presentare un piano di dimensionamento dei plessi scolastici non sia stata condivisa con tutti gli attori, non solo la parte politica e chiedendo di intervenire a riguardo. È stato ricordato dalla consigliera Penso, confirmataria, che la commissione era stata richiesta ancora a inizio agosto e convocata con enorme ritardo a cose già fatte. La problematica sollevata è stata quindi la mancanza di informazioni erogate alla minoranza. L'assessore Tiozzo ha ricordato che anche la precedente amministrazione per ben due volte aveva presentato la necessità di ottimizzare gli istituti scolastici ma le proposte fatte non erano state accettate, proposte per molti punti analoghe a quella attuale. La proposta fatta di dimensionamento è stata pensata con la volontà di garantire una stabilità in vista del calo demografico attuale e del calo demografico previsto per i prossimi anni. Portare il numero attuale dei circoli da 5 a 4 sarebbe stata una scelta che non avrebbe garantito la continuità ma che avrebbe dovuto subire modifiche in breve tempo, non garantendo quindi agli istituti scolastici, la necessaria stabilità per le progettualità. Se la scelta non fosse stata fatta entro il 28 ottobre sarebbe stata la regione a imporre le proprie scelte. Il consigliere Montanariello ha sottolineato come il Veneto non abbia fatto ricorso seguendo l'esempio di altre regioni. Il 21 novembre prossimo ci sarà la sentenza e quindi ha chiesto di attendere questo termine prima di prendere decisioni. Sulla stessa falsariga gli altri interventi che hanno lamentato la mancanza di coinvolgimento paventato dalla perdita di personale. Si è supposta da parte della minoranza una mancanza di visione generale, una mancanza di pianificazione, una necessità di dare valore ai centri storici. Quest'ultima sarà messa in atto dalla prevista ristrutturazione delle scuole Pascoli e Marchetti, ma molti sono stati i confronti che l'assessore ha avuto con gli attori della vicenda, dai vari dirigenti ascoltati singolarmente in gruppo ai sindacati. Una decisione che può scatenare perplessità ma che è l'unica soluzione in grado di assicurare una continuità sul breve e medio periodo. L'assessore ha ascoltato tutte le perplessità presentate dai consiglieri di minoranza ma non è riuscito a tacere di fronte alle critiche del consigliere Stecco, il quale, al governo con l'amministrazione Ferro, si mostrava d'accordo al dimensionamento a tre istituti. La parola ai dirigenti ha mostrato una linea più o meno unica, vedendo al 23 ottobre scorso tutti i dirigenti favorevoli alla riduzione delle dirigenze, a costo di rinunciare a una. Sono quattro ore i dirigenti e una reggenza. Per forza di cose, con tre dirigenze, uno dei quattro titolari resta a casa e per forza di cose l'istituto in reggenza, mancando di continuità e delle giuste attenzioni, è destinato a decadere. Secondo i dirigenti il passaggio da cinque a tre per un medio periodo è congruo. Pensare di fare un passaggio da cinque a quattro e uno successivo da quattro a tre dai dirigenti viene visto come un bagno di sangue. Non si tratta di una passeggiata e non è una decisione presa a cuor leggero. Gli stessi dirigenti bocciano la proposta di un consigliere di minoranza di accorpare i due centri storici, un intervento che danneggierebbe molto le due realtà. Molto interessanti gli interventi delle dirigenti scolastiche. Vi consiglio infatti di ascoltare il loro intervento sul video di Chioggia Azzurra riguardo la Commissione. Dimostrano l'interesse per il buon andamento della scuola, con una visione che va al di là di una o dell'altra struttura scolastica, ma pensando al ruolo educativo e nell'interesse degli alunni e della collettività. Non era presente la dirigente del quinto circolo, ma intervenuta la rappresentante di una parte dell'istituto, preoccupata soprattutto dal fatto che all'istituto verrebbe tolta la scuola per l'infanzia, un preambolo alla morte certa. Fermo restando che proprio il quinto circolo fu uno tra i promotori del dimensionamento già nel 2017. Di tot altro parere la parte sindacale, presentatasi con quasi tutte le firme, che ha lamentato la mancanza di condivisione, appoggiando la scelta per i quattro istituti e chiedendo ai consiglieri regionali presenti un aiuto per poter incontrare in celerità l'assessore regionale Dona Zanna. Diverso l'intervento del consigliere Dolfin, dopo aver specificato che la cosa fondamentale è il servizio erogato come scuola agli alunni, ha letto una lettera che avrebbe dovuto rimanere inascoltata, provocando la fuga in massa di insegnanti indignate uscite sbattendo la porta. Non ci sarà perdita di posti di lavoro, come scritto sul cartello posto fuori la Caccini in occasione dello sciopero, ha ribadito, supponendo che qualcuno stia tutelando interessi di facciata, visto che in definitiva per i genitori e i bambini non ci saranno grandi cambiamenti. L'intervento a chiusura dell'assessore ha ribadito la complessità della tematica, sottolineando che tale dimensionamento non significa chiusura di scuole, ma una loro riqualifica. Le condivisioni tra i vari uffici con i lavori pubblici sono iniziate già con il precedente assessore, tanto che nel piano programma sono già disponibili finanziamenti per la riqualifica della Pascoli e della Marchetti. Tagliando la testa al toro, davanti la proposta di fare passi indietro in attesa di sentenze, l'assessore ha ribadito che ora ci sono regole, criteri e tempistiche ben definite. Se domani, alla luce di una sentenza, le regole, i criteri e le tempistiche cambieranno, si faranno scelte adeguate. A novità dolce e salato in Viale Veneto, a Sottomarina, tra le specialità di che oggi al venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli. Dalle mille varianti di bossolà al casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità, non solo salato ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità dolce e salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma sabato sera dalle nove alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi.